Ora parliamo di uno dei nostri più affermati stilisti, il potentino Michele Miglionico. Lanciato da tempo nell'alta moda italiana, ha diretto la diciottesima edizione del Mad Moda di Caltanissetta, non senza dare un assaggio della sua collezione autunno-inverno. Ce la presenta Grazia Napoli. Una kermesse internazionale che ha richiamato in Sicilia stilisti da diverse parti del mondo, Messico, Stati Uniti, Georgia, Turchia, Bulgaria, Italia. Direttore artistico dell'evento Michele Miglionico, ospite della serata e dello stilista potentino in particolare Ana Carina Rossi, uruguaiana di madre Lucana, originaria di Rotonda, che si esibita in una delle più classiche canzoni del repertorio del tango argentino, Giosoi Maria, e ha indossato un abito Michele Miglionico. A fare da cornice le modelle dello stilista potentino, in tessuti raffinati, dal moer con incrostazioni di pizzo, all'organza di seta e velluto, al tulle di cotone. I colori, tanto fucsia e nero, ma anche il viola, lo zafferano, il verde menta e naturalmente il rosso. Una collezione che mostra una maniacale attenzione ai dettagli e richiama le linee degli anni 40. Ed ora Michele Miglionico si prepara a tornare nella sua terra, con una sfilata il 21 luglio al porto di Maratea, insieme a Guy Mattiolo.